... e poi mandami una cosa perché sono diciamo proiettati dove c'è lo scorrevole del box in modo che apri, accendi l'acqua, ridi senza bagnarti la mano si, io di mattina c'ho la distanza come rigi e poi saluto si, si, comunque mandami una foto se mi parla un secondo me, ti lascio un minuto quando la prima capanza è a meno 42 e la prima eliminazione è a meno 41 a te quando ordinaste, quando andaste a ordinarla a 70 con 70 non te la feci vedere ecco la barbarina ecco la passaggio la passaggio con Bonzani in testa tutto con Montico in seconda nuota buon tifo, buon tifo non è uscito ora Glippa si porta in testa al passaggio di meno 43 Glippa con Bocconi in seconda nuota il giugno è un'altra nuota che si pagano le posizioni in testa e si pagano le posizioni di meno 43 Sì, Misi, qui va poi i fredici, all'esterno ora risalgono a tre atlete, abbiamo la prima iniezione, sedici, dimmi conto. Marletti, Marletti, Deviu, Presti, Moltino, Presti, Marletti, Deviu, all'esterno, Ronsani. Sì, Misi, 38, 38, Viti, Misi, in testa al rucco. Con Federici Ottico, il segno del tesoro, ad aspettare il 1937, 89, Riva Monti. Ed è ora Presti, che si porta in testa al rucco, con Marletti, Deviu. Abbiamo preso la campagna, di meno 36, ora siamo all'aliminazione di meno 35. 8, 8, 8, Reali. Una Marletti con Deviu. Poi un altro treno con Presti e Penevici, che si portano da nelle prime posizioni. Siamo all'aliminazione di meno 33, siamo ancora distanti dalla metà gara. 17, Colombo, Pernati. Rivero 22, Amorita, Pocori. Campani, per tre salure. Uno, al gruppo allonieri, che si è portata in testa al gruppo. 6, 4, 8, 8, 8, 7. L'aliminazione. L'aliminazione del lavoro. L'aliminazione il lavoro. 8, 7, 87. Pin. 5, 2, 3, 3. Per il lavoro. Rosani in testa di un po', siamo in azione numero 29, con pressi che si presenta in testa a passaggio sull'arrivo numero 19, Saffarucci. Marleti, Berlio, pressi, campana, 192, Sivisi, prima ammolizione. Marleti, Berlio, pressi, campana, 192, Saffarucci. Marleti, Berlio, pressi, campana, 192, Saffarucci. Marleti, Berlio, pressi, campana, 192, Saffarucci, campana, 192, Saffarucci, campana, 192, Saffarucci. Marleti, Berlio, pressi, campana, 192, Saffarucci. Marleti, Berlio, pressi, campana, 192, Saffarucci. Sono tutte lì, campana di meno ventidue, eliminazione in corso, meno ventuno al passaggio. Sì, c'è pure spada, Jasmin. Ora in testa il gruppo, si era portata a questi, giuria a questi. Grazie a tutti. La canzone di 19, 22, Pocomi, Fremassi, Cantona, qui, meno di foto. Giulia Breschi, ora Clitta, si porta al comando con Breschi, poi Marletti. 2-5-1, Fremassi, Galimberti. 3-5-1, Fremassi, Amorita, la numero 139, Leucci, Campana, di meno 16, al passaggio, eliminazione, di meno 15. In testa, Marletti, ora Clitta, Sofia Clitta, di una lenza di Marletti. 3-5-1, Fremassi, Seri, Veri Infermati, Montrico, in testa, gruppo, al passaggio, di meno 14. мі unde si adeugia la voca in testa, gruppo, al passaggio, si abono le semi ale 0-5-1, Fremassi, Eventuale, Medicina, la camine e rara al passaggio 121 con pallonieri fermarsi Marletti Giulia Prestiona in testa con Marletti Crippa Montico Federici 141 con Marletti Crippa Montico Federici 14-0 fermarsi ora scala in una posizione si è alzata Alzani bene e allora Marletti Presti Federici Montico Crippa queste le prime posizioni si è alzata di una seconda sette 1-9-2 civisi fermarsi e sono i nostri sette al passaggio campana di Milsei Alizio Galletti il testo del gruppo Giulia Presti poi Siria Montico poi Anastasia Federici poi Sofia Crippa Marletta Meggi e l'inassieme di Lusifre no no non è lei all'esterno vedete alla rossa non si staccare vai 139 Ne uscite Massimo dalla campana di Nelquattro e poi sempre eliminazioni campana di Nelquattro e ora eliminazione di ogni giro di testa di testa Marletti poi Giulia Presti poi Anastasia Federici stagionare si entra in modico Vigio 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 Nobarta Fennasi Marletti 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 e nella Paola partita e l'inimitazione di Corso Vigio 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 e l'inimitazione e tu un'unitare D'amore columinante 3-4-5 Chia Stagionato Grazie a tutti. Grazie a tutti.